Ebbene carissimi amici ben ritrovati come sempre sul mio canale youtube arrivano puntuali come ogni mese i miei appuntamenti mensili e partiamo con Ambo sotto controllo per il mese di novembre 2023. Vi ricordo il grande botto vincente che abbiamo realizzato nel mese di settembre con l'Ambosecco 3746 a Bari il 15 settembre. Ambo secco come al solito ho vinto da pochissimi e perso da tantissimi. Il capoggio che era il 37 a settembre abbiamo vinto un bellissimo Ambo secco pensate giocando soltanto due Ambi su due ruote unica giocata mensile. Nel mese di ottobre vi avevo dato il 38 e l'abbiamo vinto 38 in posizione andate a vedere Baricaglia di terza e quinta posizione. Il capoggio di Ambo sotto controllo è una bomba cari amici è una grande bomba e va giocato tassativamente ogni mese non perdete la previsione completa parliamo di due Ambi su due ruote modalità vincita venuta quindi vi regalo come sempre il capoggioco 72 per il mese di novembre attenzione 72 Baricaglia che anche terza e quinta posizione questo è il capoggioco. Due Ambisecchi su due ruote fisse con un'unica previsione mensile in modalità vincita avvenuta potete contattarmi via whatsapp 348 75 47 715 vi faccio vedere ancora una volta il cedolino vincente dell'Ambosecco 37 46 da Ambo sotto controllo con capoggioco 37 vinto il 15 settembre quindi mi raccomando che chi segue con costanza questa giocata va a raccogliere i frutti quindi Ambo sotto controllo questo mese è un bellissimo capoggioco che mi piace molto questo 72 Baricaglia e lo giochiamo terza e quinta posizione sapete benissimo che l'estratto determinato non lo falliamo mai ogni mese va a pagare alla grandissima potete controllare nel mese di ottobre come il 38 che avevo dato per il mese di ottobre si è uscito alla grande quindi due Ambisecchi su due ruote è una previsione completa si paga solo se esce Rambo quindi rischio zero è tutto a vostro vantaggio quindi mi raccomando per Ambo sotto controllo novembre 2023 contattatemi via whatsapp per adesso saluto a tutti mister bancolotto